prepariamo la pasta alla carbonara con la cottura a bassa temperatura in una ciotola mettiamo due uova e 4 tuorli sbattiamo energicamente e aggiungiamo 150 grammi di parmigiano e 120 grammi di pecorino romano mescoliamo e otteniamo un composto molto denso lo terminiamo di mescolare bene con un cucchiaio e lo trasferiamo in un zacchetto per sigillarlo sotto vuoto ovviamente ci siamo affidati alla qualità di inkbird e alla sua sigillatrice riempiamo una pentola inseriamo il nostro inkbird per la cottura a bassa temperatura e impostiamo la temperatura a 62 gradi e mezzo per circa 50 minuti di tanto in tanto mescolate il sacchetto con le mani pigiandolo un po e ruotandolo abbattete il tutto passando in acqua e ghiaccio e dopo di che potete tenerlo in frigo fino all'utilizzo io lo vado ad utilizzare subito in una capiente padella metto il nostro guanciale e un goccino d'olio lo so che solitamente si fa sudare io preferisco fare così per questa volta e devo dire che il risultato è stato davvero ottimo levo il guanciale e lascio il fondo di cottura fatto prevalentemente del grasso di cui ha sudato appunto il guanciale su questo fondo salto la pasta aggiungo la crema che ho ottenuto appunto con la cottura a bassa temperatura aggiungo anche il guanciale croccante e manteco ancora con un mestolo d'acqua di cottura della pasta fuoco spento mi raccomando ed ecco pronta la nostra pasta la carbonara ovviamente in questa versione con cottura a bassa temperatura una spolverata di pepe ed ecco pronta la nostra bontà e la stagione